Minister, buonasera. Amedeo di Sora di Frosinone. Abbiamo ascoltato poco fa il suo collega Cosmi, il quale ha detto che per perdere oggi a Frosinone occorreva fare un'impresa. Vorrei che commentasse questa espressione che mi sembra abbastanza offensiva e mi spiegasse come mai anche oggi Frosinone, primo tempo così e così, così e così no e poi il secondo tempo sicuramente meglio. Allora su questa cosa del mister, quando la devo sentire rispondo perché magari alzo il tono su una risposta che non ho sentito e perciò va benissimo. Va bene, non c'è un problema, nessun problema, rispondo subito sulla seconda parte. La domanda era sempre uguale tutte le domeniche, le spiego sempre la stessa cosa, che noi comunque siamo questi. Abbiamo detto qualche partita perché siamo questi, però non faremo mai magari un calcio che è così super. Oggi in più per me non si è visto, abbiamo tanti infortunati, però non c'è nessuna causa, perché anche tra le partite tutti gli altri facciamo, magari abbiamo fatto le stesse partite. Io dico che le assenze non si sono sentite minimamente, magari sui cambi qualcosa, magari avevamo qualche alternativa sui cambi, ma chi ha giocato è stato come quelli che hanno giocato altre volte. Sono contentissimo del risultato, siamo una squadra così, una squadra fatta così, che però vince le partite. Ragazzi, siamo dei conti. Qualcosa di buono la faremo pure noi. Non ci mancherebbe. Dal punto di vista psicologico, ti do la mia impressione, mi dici se è la stessa tua, alla fine al primo tempo dico, solito primo tempo, adesso facciamo gol e vinciamo 1-0. È la quarta volta di seguito che succede. Tu pensi anche a livello di squadra e a livello tuo di staff, pensate prima o poi la sblocchiamo e se la sblocchiamo la vinciamo? Cioè mentalmente quanto vi sta aiutando questo fatto di vincere sempre 1-0? Ma avere una difesa che ti fa prendere pochi gol sicuramente dà coraggio alla squadra. Si può aspettare anche, non è che aspettiamo che è programmata, viene fuori così. Però sai che se fai gol l'altro fa fatica a fartelo e perciò per le motivazioni della squadra sta tranquilla. Poi capiterà che prenderemo 2-3 gol nella partita, però la difesa tiene. Oggi mancavano due giocatori che giocano spesso come Capitano e Capuano. Oggi dico che non ce ne siamo accorti. Questo per merito di Simischi e Kranic e gli altri hanno fatto il solito. Questo è un marchio di fabbrica di questa squadra, è una caratteristica importante, è tosta. Questa è una squadra tosta. Non sarà mai bellissima come uno può intendere. Ma a me va bene così. Penso pure a voi. Quando si perde sarà un disastro perché giochiamo male e perdiamo. Però se vinciamo purtroppo è così. L'anno scorso c'è qualcuno di Perugia, qua facciamo un calcio un po' diverso, anche noi. Però io credo che bisogna capire che quando uno arriva non deve essere vanesio, non deve essere prima a far vedere se stesso e poi dopo vabbè dai. Oppure se perdi non riescono a fare certe cose i giocatori. Io penso la bravura, che non sono bravo, però la bravura è osservare quello che possono fare e quello che non possono fare. E dopo dargli un'identità che può permetterci la squadra. L'identità di questa squadra è questa. Fantastica. Un DNA che dura da anni prima che arrivassi io. E chi vuole romperlo? Arrivo io perché voglio far il bello, perché voglio sognare ad allenare in Serie A, poi mi faccio mettere davanti alla porta a giocare dentro l'area di cori, a palleggiare. Un pratico. Un pratico e questa è un'esperienza anche per me che vengo magari come predisposizione a un altro tipo di calcio. Quest'anno mi sono dovuto impegnare a capire qualcos'altro e per la mia formazione 10, questa roba, tanta roba è uscita fuori. Fino adesso. Poi il campionato è lunghissimo e non abbiamo affatto niente. Roberto Monforte, Radio Day, la domanda è qual è il plus valore che questa vittoria dà e che messaggio lancia a tutte le altre della Serie B? Il valore, il primo è la classifica. La classifica, ragazzi, si guarda sempre. Quando si perde, quando si vince. La classifica è fondamentale. Il primo messaggio è la classifica. Siamo commessi lì. Il secondo, il messaggio è quello che ho detto prima. Una squadra tosta, sa che il allenatore prossimo che dovrà incontrarci, sa che incontrano una squadra tosta che è difficile da affrontare. Ciano, Maiello, Bardi, se può darci qualche indicazione e soprattutto una benedizione perché a questo punto è l'unica cosa che può salvarci. No, vabbè, addirittura chiediamo al Signore altri tipi di benedizioni. No, scherzo. No, allora Camillo si è fatto male, credo. Adesso però vediamo. dobbiamo però quello un pochino perché uscendo in quel modo dal campo pensiamo non ho idea. Non ho idea. Non dobbiamo fare cose. Però per come è uscito? Sì, muscolare. No, no. Maiello e Grampi. Grampi e Bardi niente. Assolutamente niente. No, non ho proprio idea. Non lo so, giuro. Eh, non lo so. Stavo vicino, sto quasi in tribuna. L'ha visto voi. Sto a due metri più sotto. L'ha visto anche io. Buonasera, mister. Il colpo di testa di Rodin precedente all'azione del gol ha dato una scossa emotiva a questa squadra. Forse al Fusinone manca solo una spinta su questo senso. Sì, a volte aspettiamo troppo prima di essere, diciamo, pericolosi. Dovremmo, dovremmo, magari, essere più costanti nel tenere sotto botta, diciamo, la difesa loro. Perché tante volte passa troppo tempo prima di provare ad andare a far male. A volte seguiamo l'onda della partita invece di, a volte, attaccarla. Buonasera, mister. Prima di tutto una curiosità. Cosa ha chiesto a Novakovic prima di entrare? Visto che vedevo che c'erano dei gesti abbastanza eloquenti. Di correre. Magari faceva segno con i difensori. No, noi abbiamo preparato la partita per andare a prendere il play loro su palla centrale con Maiello. Una volta che ci guidavano sull'esterno, Maiello doveva andare a schermare davanti alla difesa e la punta opposta doveva prendere il play. Tutto là. E poi di correre sempre. Infatti è entrato a corso con un pass. Benissimo. E poi, sempre tornando alle dichiarazioni di Cosmi, ha detto anche che il Fusinone ci ha aspettato perché sapeva che prima o poi avremmo commesso un errore. Però nel primo tempo, nella seconda frazione del primo tempo, diciamo, la palla l'ha vista veramente poco il Fusinone. È vera questa cosa oppure siccome ha accomunato un po'... No, noi siamo partiti per me forti perché abbiamo provato a prenderli il più alto possibile. Dopodiché a tratti ci siamo riabbassati, ci siamo rialzati. La gestione della palla quando ce l'abbiamo avuta noi il primo tempo non benissimo. Abbiamo sbagliato tanto. E' venuta una partita, dai. Anche il Perugia ha sbagliato tantissimo. Tutte e due. Il primo tempo è brutto. Io non mi vendo oro, come dici, no. Vabbè, lasciamo stare. Mi sarebbe una curiosità. Mi dici solo sì o no. Abbiamo giocato un po' in maniera diversa rispetto a altre squadre col 3-5-2. Cioè, quest'olta mi è sembrato che i quinti andavano a prendere i quinti e non andava la mezzala a prenderla. Maiello usciva sul portatore loro. Hai giocato un po' in maniera diversa rispetto a altre partite giocate contro il 3-5-2? Sì, perché anche domenica avevamo le coppie. Terzino-mezzala a Venezia. Allora, chi rimaneva largo, a volte, quando usciva la mezzala sul terzino, la mezzala ci rimaneva dentro a campo e facciamo fatica ad andarla a prendere. Oggi, per semplificare, siamo andati uomo con uomo sull'esterno, play su play, e poi dopo il resto, i due punti, si giocavano i tre e dietro c'avevi la superiorità con i tre dietro. Velocissima. Brighenti recuperato sicuramente. non avrai Ciano. Quante possibilità ci sono di riavere Dionisi? Tante. Oggi lo stavo per far entrare. Perciò oggi non era... C'è stato un momento che Citro doveva uscire perché non stava bene. Federico, prima lo siamo detto, entro io, entro io, entro... Però doveva essere proprio in emergenza. Per la prossima io credo che Federico ci sarà, sarà a disposizione. Molto, grazie. 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 Grazie.